Ciao a tutti e bentornati ad una nuovissima e scoppiettante puntata di Tessiland Condivision. Come sapete nella seconda puntata del mese analizziamo alcune tra le domande che più ci avete posto nel servizio di assistenza, ma questa volta vogliamo parlarvi anche di novità, perché come vi ho detto già nella scorsa puntata di Tessiland Condivision, quest'anno di novità ce ne sono davvero tantissime. E quindi abbiamo detto, ok, parliamo delle domande che più ci vengono poste all'assistenza, ma iniziamo anche a dare dei primi assaggi di novità che ci sono sul catalogo Tessiland. Da cosa iniziamo? Prima dalla sigla. Sigla! Allora, iniziamo da una problematica che riscontriamo ogni giorno e anche più volte durante il giorno. Perché? Perché molte volte quando magari vengono effettuati degli ordini ci si dimentica di quell'articolo che avevamo scritto, a cui avevamo pensato, ma che non abbiamo inserito al momento dell'ordine. E quindi? Che cosa facciamo? Come sapete, una volta concluso l'ordine non è possibile per noi gestire il tutto e quindi effettuare alcuna modifica, aggiunta o sostituzione. Ecco perché più volte vi suggeriamo di controllare accuratamente tutti gli articoli prima di concludere l'ordine e ve lo ricordiamo anche nell'apposita schermata che vi compare proprio prima di procedere appunto con lo stesso. E questo ovviamente non è per mancanza di volontà, ma perché una volta avviato il processo di lavorazione, la rigidità dello stesso non consente l'intervento sulla catena produttiva. C'è però una possibilità in casi del tutto estremi, vale a dire l'annullamento dell'ordine, che può avvenire in due modi, o attraverso una mail se inviata entro due ore dal momento in cui viene effettuato l'ordine, oppure telefonicamente, che è la scelta che noi consigliamo sempre per qualsiasi cosa, il telefono e la chat, ma in questo caso vale però solo l'assistenza telefonica, perché è l'unico modo per avere un contatto diretto con noi e quindi avere un'assistenza rapida, avere una risposta sicura in merito al fatto che l'ordine possa essere o meno annullato. Perché come vi dicevo, se il processo di lavorazione è già stato avviato, ahimè non è più possibile fare nulla e quindi non è possibile neanche l'annullamento. Se invece ci contattate in tempo, vi rendete conto davvero subito di aver commesso qualche errore, chiamateci e ovviamente noi saremo ben lieti di potervi aiutare laddove possibile. Se ovviamente il metodo di pagamento utilizzato è il contrassegno, non c'è problema, annulliamo e lo rifate da capo. Se invece il pagamento è già stato effettuato, in tal caso vi genereremmo il codice di un buono di pari importo da utilizzare sul nostro sito, quindi per rifare l'ordine, ma comunque con tutta calma, perché ha una validità di 90 giorni. Però mi raccomando, controllate accuratamente tutti gli articoli, fatevi i vostri calcoli, in modo tale che possiate ricevere, e anche nel minor tempo possibile, il vostro meraviglioso, gradito e tanto atteso ordine. Tessila. E adesso invece veniamo ad una bella novità. Eccoli qui, sicuramente già conoscerete questo filato, e adesso che piano piano, molto lentamente, ci stiamo avvicinando alla stagione estiva, qualcuno di voi ha già iniziato a porci le prime domande in merito a filati adatti per i costumi. Bene, il filato più adatto è sicuramente lo splash. 100% stretch, 50 grammi, 175 metri, per il quale consigliamo l'utilizzo dell'uncinetto 3-4. È una vera e propria garanzia, resiste all'acqua del mare, al cloro, all'esposizione prolungata al sole, ai pluri lavaggi, si asciuga rapidamente. Insomma, il filato perfetto per realizzare costumi, che siano bikini, che siano i trichini o costumi interi, lo splash è adatto. Ma quest'anno Tessiland ha deciso di arricchire ancora di più, in modo tale da poter accontentare le tante richieste che ci sono arrivate, in merito proprio al fatto di aggiungere, diciamo, di ampliare un po' di più quella che è la gamma dello splash. E infatti sono arrivati questi nuovissimi colori, vale a dire il rosa, il celeste, l'arancio, un bellissimo verde che sulla bronzatura staccherà da Dio, il petrolio e infine il Tiffany. Anche questo staccherà benissimo e risalterà la vostra abbronzatura. Quindi iniziamo a prepararci con i nuovi colori dello splash. Altra questione che ci avete spesso posto e che finalmente siamo riusciti a risolvere. Come potete vedere, ogni richiesta per voi diventa un problema per noi che dobbiamo assolutamente risolvere, cerchiamo di farlo. E in questo caso vi abbiamo accontentato. Perché? Perché tante volte ci avete chiesto, posso abbinare quel fondo a quel set, a quella tracolla, a quei manici? Avranno lo stesso colore? Finalmente abbiamo la risposta. Vi faccio un piccolissimo esempio. Quest'oggi qui, ad esempio, abbiamo un classico fondo 30x10 Avio, perfettamente abbinato ad un set vintage Avio e a dei manici Wave Avio, tutti e tre dello stesso e identico colore. Queste tre tipologie di articolo, quindi, avranno gli stessi colori che potrete quindi abbinare. Ma non sono solo loro. Infatti, e li vediamo insomma adesso nelle varie foto che compariranno, ci sono anche altri articoli che, esattamente come i tre che abbiamo visto finora, hanno i colori che possono quindi perfettamente abbinarsi ad altri prodotti. perché la colorazione è la stessa e sono tutti i vari fondi, quindi oltre al 30x10 anche il 21x8, 27x12, 28x18, 36x12 e il fondo rotondo con il diametro da 23 cm. A questi si aggiungono i manici Wave che abbiamo visto prima, ma anche i manici Circle e i manici Urban in arrivo, a cui potrete abbinare anche la patta Globo o la patta Ward, a cui potrete abbinare ancora il set Vintage che abbiamo appena visto, la tracolla borsa All Style e il regge anello in ecopelle. E ancora, in ultimo, perché qualche chiusura serve, è infatti anche le chiusure magnetiche su similpelle cucibile. Finalmente, insomma, potrete quindi realizzare la vostra borsa con i vostri abbinamenti in perfetta sintonia. E adesso, invece, concludiamo con l'ultima novità. Se non l'avete vista nel nostro catalogo, nella sezione dedicata ai cotoni e misti, oppure in quella dei nuovi prodotti, non vi preoccupate, ve lo diciamo noi in Tessiland Condivision e molto, molto presto anche in Tessiland News, dove ci sono anche i famosi telini, in modo tale che possiate visualizzare le sfumature meravigliose di questo Giovi. Parliamo di un 100% cotone, è vero? Ce ne sono diversi di cotoni sfumati sul nostro sito, ma il Giovi ha, in un certo senso, una doppia sfumatura. C'è, infatti, da una parte la sfumatura affiammata, che dà sicuramente molto movimento alle vostre creazioni, ma dall'altra parte, invece, c'è questa spruzzata di colore, questo effetto spray molto più corta e degradé, in modo tale davvero da far anche intravedere la fibra e la naturalezza di questa fibra, oltre che lo splendore di questo meraviglioso filato. Lo vediamo così in dieci varianti di colore, che per alcune possono sembrare simili, ma credetemi la differenza c'è e si nota appunto soprattutto nei taglini. 100% cotone, made in Italy, garantito da Tessiland e presentato in Tessiland Condivision. Per chi vuole quindi sicuramente uno stile o comunque sfoggiare, liberarsi finalmente attraverso un'esplosione di colori quest'estate, il Giovi è sicuramente il filato d'atto, per avere un look vivace, di personalità, vissuto, diverso. E questa puntata di Tessiland Condivision si conclude qui. Devo dire che è stata una puntata molto ricca, perché abbiamo dato delle informazioni importanti, che probabilmente qualcuno di voi non conosceva, soprattutto l'abbinamento dei colori dei vari prodotti adatti alle borse, ma anche perché abbiamo visto delle novità, che poi insomma ecco, avremo modo di approfondire, che mi auguro, anzi sono quasi certa, che utilizzerete nel corso dei prossimi mesi. Detto ciò, vi ricordo di seguirci sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maglia, mi raccomando, e di pubblicare, perché tra due settimane vedremo nella puntata di Tessiland Condivision di chi parleremo, di quali progetti avremo, selezionato e chi è che avrà ottenuto più mi piace durante il mese di febbraio. Di seguirci ovviamente anche sugli altri social, vale a dire Pinterest, TikTok e Instagram, di continuare a commentare qui sotto il video se avete delle richieste, dei suggerimenti che volete che affrontiamo nelle prossime puntate, ovviamente insomma ecco, scriveteci. E ovviamente, in ultimo, ma non meno importante, iscrivetevi al canale YouTube Tessiland ed attivate la campanella in modo tale da essere costantemente aggiornati sulle nostre rubriche, sulle nostre novità, su ciò che facciamo, su ciò che diciamo. I link dei prodotti ovviamente di cui abbiamo parlato quest'oggi, li potrete vedere qui nel box informazioni o nella i posta qui in alto. Io vi ringrazio come sempre per il vostro meraviglioso e calorosissimo affetto. Vi do appuntamento tra due settimane per la prossima puntata di Condivision e vi mando un grande abbraccio, un grande bacio. Alla prossima, ciao!